Rafforzare la maggioranza, rispettare i risultati elettorali. Il segretario del PD di Vittoria, Salvatore Di Falco, spiega la posizione del suo partito. La spaccatura tra Selle e Fed non muta gli equilibri della maggioranza perché Federazione della Sinistra resta un soggetto importante per la coalizione. Il Partito Democratico non può intervenire se non manifestare un certo disagio, una certa preoccupazione perché ovviamente le spaccature non fanno bene ad una coalizione. Il PD però chiede di contare di più e questo perché le sue liste hanno dato un apporto forte al successo del sindaco Nicosia ed hanno eletto la maggior parte dei consiglieri. Il Partito Democratico sta affermando un principio. Sono trascorsi sei mesi in cui abbiamo manifestato giudizio e alto senso di responsabilità. dobbiamo primariamente riferirci al risultato elettorale. C'è una volontà popolare che chiede che il PD abbia maggiore spazio all'interno della Giunta e c'è una volontà popolare che chiede però che all'interno della Giunta ci siano anche le forze di Selle, dell'Udc e delle liste civiche. Quindi la richiesta al sindaco, alla maggioranza, è quella di poter governare nel rispetto della volontà popolare con una maggiore presenza in Giunta. Selle, con le dimissioni di Garofalo, ha chiesto di confermare tutte le deleghe avute finora e la vice sindacatura. Richiesta accettata anche dal PD che pone però un paletto. Il vice sindaco non potrà avere anche l'incarico di consigliere. Il suo ruolo accanto al sindaco, l'impegno che questo comporta, non lo consente. E se Selle, come sembra, vorrebbe candidare per quella poltrona Enzo Cilia, tutto questo non sarà senza conseguenze. Non abbiamo nessun tipo di pregiudiziale sul fatto che Selle reclami la vice sindacatura e del resto credo che l'ha già avuta e credo che questo sia argomento di discussione delle forze di maggioranza. Noi fermiamo però un principio come Partito Democratico, che è il vice sindaco. Proprio per l'alto compito che deve svolgere, il sostituto del sindaco, è forse la persona più diretta che può guardare più direttamente le carte del sindaco e quindi un lavoro a tempo pieno deve lasciare qualsiasi tipo di incarico elettivo o meno.